Siamo con il professor Cavana, che ringrazio davvero tanto per la disponibilità e il tempo. Sappiamo che le sue giornate sono interamente dedicate all'ospedale, ai pazienti, però ci sembrava bello, proprio per l'esperienza che lei ha, nella giornata del malato, poter avere un dialogo con lei. Ogni anno diversi organismi internazionali, la Chiesa stessa, indicano diverse giornate, la giornata dell'AIDS, la giornata per la ricerca sul cancro. In questo caso parliamo della ventesima giornata del malato, che servono perché almeno in quel giorno lì ci si fermi a pensare. Per lei ogni giorno è la giornata del malato. Come si vive ogni giorno a contatto con la malattia? Grazie dall'invito intanto. Sì, sì, è vero, sono d'accordo con quello che lei dice, perché effettivamente noi, sani, apparentemente sani, abbiamo dei beni preziosi che non sappiamo, ci rifletto ogni giorno, ci rifletto ogni giorno davvero perché ci rifletto soprattutto quando mi lamento che qualcosa non va, o che ho troppo lavoro, o che alcune cose potrebbero andare meglio. Ci rifletto perché l'apposità di alzarci al mattino, camminare, fare le cose che magari ci danno noi o ci pesano, è un bene immesso, prezioso. Ce ne accorgiamo davvero purtroppo quando qualcosa viene a mancare. Io nel mio contatto con i malati ho davvero tante, tante, ricevo tanti insegnamenti di persone che mi dicono poter alzarmi dal letto, andare fino in bagno è stata una conquista immensa, è stato come raggiungere il traguardo più grande della mia vita e fanno davvero riflettere queste cose e quindi la giornata del malato, la giornata in cui ci si ferma, come diceva lei, a pensare su cose che da un lato sembrano ovvie, però non lo sono affatto perché noi tutti corriamo il giorno, corriamo sempre di più, pensiamo forse poco al bello e anche all'opportunità che abbiamo e ahimè, le rimpiangiamo quando magari vengono meno anche parzialmente, anche in parte, quindi è un punto questo che rimette un po' in discussione la filosofia della vita di oggi, della vita moderna, che è una vita sempre tutta di corso insomma. Il vivere tutti i giorni a contatto con il malato, peraltro nel suo caso insomma anche con malati anche seri, anche gravi, crea una sorta quasi, mi perdono in questa bruttissima parola, un'abitudine o continua a interrogare e continua un po' a provocare dentro sulla malattia, sulla sofferenza? Il rischio che porta un'abitudine c'è, il rischio è se noi vediamo la malattia e non il malato, se vediamo il tumore, se vediamo l'organo malato e non vediamo che c'è la persona che ha la malattia. Difatti e per fortuna negli ultimi anni proprio in oncologia si sta rivisitando il nostro modo di comportarci e quando diciamo, leggiamo, scriviamo, curare la malattia o curare il malato, una sottile differenza ma con conseguenze enormi, è vero, non ci si abitua se si guarda in faccia della persona, se si guarda negli occhi ci rendiamo conto che non possiamo abituarci, non possiamo neanche dare un segno, un cenno di stanchezza quando magari arriva l'ennesima persona magari in attesa ma avviene perché ha un problema, perché ha un bisogno, perché ha qualcosa che non va, se noi vediamo la malattia rispondiamo male, rispondiamo a volte in modo non maleducato ma comunque in modo freddo, in modo che il malato lo percepisce, se invece vediamo che c'è una persona cambia tutto, ma quello che portiamo a casa noi come gratificazione è enorme, è enorme, se non riusciamo a dire io oggi sono riuscito a fare qualcosa di buono per una persona o comunque ad alleviare un po' il suo peso, a fare qualcosa per lei, quindi io chiedo scusa, sembra che dica delle cose un po' troppo retoriche, ma è così la realtà di tutti i giorni, quindi se noi vediamo il malato e poi nel nostro lavoro i malati che conosciamo, con cui veniamo contatto, le loro famiglie, loro familiari, spesso è un rapporto che dura nel tempo, dura mesi, anni, ci sono due possibilità, ce lo possiamo dire in modo molto, forse anche un po' crudo, una persona guarisce, loro si seguono nel tempo per fare i controlli, una persona peggiore nel corso degli anni e la perdiamo, ma sono mesi, anni che passiamo assieme, alla fine noi sappiamo tutti di loro e i malati sono tutti di noi e si crea un rapporto che è molto bello, che forse secondo me se lo si vede dall'angolatura giusta, davvero noi portiamo a casa molto di più di quanto diamo. Così però si è anche molto esposti, credo emotivamente, si fa anche una fatica, viene spontaneo, l'è mai venuto spontaneo chiudersi in qualche modo, dire io non posso essere costantemente così esposto, perché credo che sia anche una fatica davvero portare avanti insieme ai pazienti la loro sofferenza o no? No, no, questo è vero, di fatti noi abbiamo, è vero quello che è un problema reale, è un problema che tocca il medico e che tocca in modo uguale forse ancora di più l'infermiere, perché spesso l'infermiere è molto molto a contatto col malato, a volte noi medici vediamo il malato durante la visita o invece l'infermiere fa la terapia, mette sulla flebo e ascolta, magari ha più tempo e quindi anche l'infermiere a volte riceve un peso davvero grande di poter ogni giorno così affrontare la sofferenza e a volte affrontare anche la morte e per questo dobbiamo mettere in atto quello che anche la scienza ci ha messo a disposizione, oltre alla buona volontà, ma la buona volontà non è sufficiente, quindi abbiamo corse e incontri con lo psicologo che ci dà degli strumenti per poter superare i momenti più critici e poi ancora una sorta di autoaiuto anche all'interno dell'equip, sapere, avere la percezione di dare un buon servizio dal punto di vista tecnico-scientifico, che quello è necessario ma non sufficiente e se poi ci mettiamo anche un po' di sentimento, quando abbiamo la coscienza di aver fatto questo, abbiamo una sorta di dire abbiamo fatto tutto il possibile, ed è come sentirsi di dire quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, poi non possiamo andare contro l'impossibile, questo aiuta comunque a superare i momenti più critici. Adesso le faccio una domanda che se in parte mi ha già risposto, proprio nella sua interiorità, nella sua storia e nella sua vita di Dottor Luigi Cavanne, dipendentemente dal lavoro dell'equip, dove e come riesci a rimotivarsi, mi verrebbe da dire nutrirsi, insomma, perché è un lavoro che mette in gioco, dicevamo, anche sentimenti e emozioni, quindi credo che ci sia la necessità a volte proprio di questa ricarica, di dire do, ma devo anche in qualche modo nutrirmi, non so, a me viene questa parola. Lei come fa? Ma guardi, come dicevo prima, quello che a volte, io dico sempre a chi lavora con me, poi lo condividiamo questo, ma non al 100% per tutti, almeno questa percezione, è un modo un po' comune, quasi una parola d'ordine, di dire noi dobbiamo in ogni modo togliere qualche peso al malato e non aggiungerne. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'organizzazione, non solo nella cura del malato e dei suoi problemi, ma nell'organizzazione del lavoro che abbiamo e che cerchiamo di pianificare è quello di evitare disagi per quanto riguarda l'esecuzione di esami, la prenotazione, l'andargli a fare, ci pensiamo noi tutti come Dipartimento, ma non voglio suggerire la sua domanda che è più fine. La motivazione e evitare di andare troppo in crisi arriva da due ordini di fattori fondamentali. L'uno, potrei dire da quasi una visione positivistica della realtà, sapere che comunque le conoscenze scientifiche, la ricerca va avanti. Io nella mia vita ho visto davvero, non tante, ma due o tre malattie a cambiare in modo radicale con l'introduzione del farmaco giusto, della medicina giusta, quasi, non dico miracolosa, ma ho visto persone, le cito A, ho visto malattie come la leucemia miroide cronica in cui se non c'era il trapianto di midollo allogenico per guarire, si arrivava a un certo punto che ci si vedeva davvero la fine davanti, davanti con un termine di qualche mese. Poi è arrivato l'imatinib, una medicina veramente stata rivoluzionaria che va a colpire il gene malato e la prognosi è cambiata in modo radicale e così anche per altre malattie come i sarcomi gastrointestinali. Quindi la motivazione deriva da sapere che le conoscenze scientifiche vanno avanti e camminano, molto lentamente per chi è malato in quel momento, ma molto velocemente si confrontiamo con gli ultimi 10 o 20 anni, quindi la conoscenza scientifica. Dall'altra è comunque, e c'è anche un po' di scienza anche in questo, sapere che ogni malato è un malato a sé, noi abbiamo dei dati statistici, dati di sopravvivenza, di risposta alle cure, però il malato che abbiamo di fronte, noi dobbiamo trasmettergli molta positività, perché se il medico è convinto che la cura può far bene, riesce a convincere il malato, il malato fa cura a volte anche difficili e il risultato che si porta a casa lo si condivide e quindi questo dà comunque una certa ricarica. E poi, ma questo è un fatto molto personale, anche il discorso di avere la fede, di sapere che comunque a volte noi medici che siamo molto, almeno molto freddi quando magari ci abbiamo un protocollo di ricerca, però sappiamo che le nostre forze possono essere limitate, a volte ci si trova a pregare, quindi questo aiuta. Senta, l'ospedale insieme ad altre istituzioni, anche se forse marginale rispetto ad altre istituzioni, da molti sociologi è stato definito un'istituzione totale, quelle istituzioni che sono come dei microcosmi, quasi fossero separati dall'arresto del mondo, voi lo vivete un po' così, cioè vi sembra che la comunità potrebbe essere più vicina, più partecipe, che si tenda veramente alla malattia perché provoca anche sofferenza, dolore, perché comunque interroga inevitabilmente, si tende un pochino a cercare di non vederla o com'è il rapporto che vi sembra che l'ospedale abbia un po' con la comunità? Qui peraltro siamo nella sala dei volontari, quindi è già un segno positivo. Sì, è vero. L'impressione a volte che si ha è quella di vivere in un nostro mondo, questo sì, tant'è che quando si passano tante ore dentro l'ospedale a contatto con tante persone malate, poi quando si vive la vita fuori, ci sembra dire che sia una realtà diversa, direi, ma io per rispondere in modo, anche un degli esempi alla sua domanda, abbiamo dei giovani medici, appena le persone sono, appena neolaureati, che vanno in un reparto, in un reparto magari dove sono malattie anche impegnative, alcuni medici a volte davvero si sentono, entrano in crisi perché sembra che tutte le persone siano malate, quindi vive un micromondo, direi, ma al minimo segno non si sentono malattie a grave, quindi l'ospedale tende in un certo senso un po' ad isolare, come percezione soggettiva che io ho, d'altro canto si incomincia da un po' di anni, queste giornate come la giornata del malato, la giornata della ricerca sul cancro, la giornata riesce a portare un po' l'ospedale all'interno della cosiddetta solidarietà civile, a fare partecipi anche il mondo dei sani e questo è molto positivo perché innesca un meccanismo della solidarietà, quando si parlava appunto di volontari, uno va a fare il volontario se conosce certe realtà, se non la conosce non ci andrà mai e è chiaro che avere dei giovani di 20 anni o 30 anni o persone di 40 anni che magari sono ad una festa, parlare di malattie, forse fa stingere un po' nelle le spalle, ma anche nella nostra città e provincia si organizzano tante manifestazioni di tipo se vogliamo ludico, in cui ci sono feste, poi magari si raccolgono fondi per la ricerca e si parla magari 10 minuti di malattia, questo serve a sensibilizzare il ritorno che abbiamo, è un ritorno favorevole, persone che vogliono impegnarsi nel volontariato, che comunque sono sensibilizzate e organizzano altre manifestazioni, quindi la società credo che sia molto sensibile al discorso della persona malata, anche perché parlando tutti ci dicono che non esiste una persona che non abbia almeno un amico, un conoscente, un parente che abbia avuto una malattia di questo tipo, parlo nell'ambito dell'oncologia, ma anche altre malattie. La malattia e quindi viene a dire anche la sofferenza, che segno sono per, non solo per i malati, ma per la società, cioè che domande fanno, che riflessioni, ma anche secondo me, non vorrei essere fra intesa, che arricchimento possono portare, cioè si riesce comunque a intravedere anche una speranza o è per forza sempre qualcosa, come dicevamo prima, da cercare di tenere un po' fuori perché ci spaventa? Secondo me una risposta di ordine così universale non so se esiste, perché poi ogni persona personalizza molto la risposta. Devo dire che molte persone, per mia conoscenza, mia esperienza, che sono state malate, hanno cambiato poi visione del mondo e hanno avuto una visione più positiva, migliore, parlando con loro, di apprezzare di più, forse come dicevamo all'inizio, anche quelle cose considerate piccole che però sono enormi, sono più belle, sono grandiose, se diamo loro il giusto significato. Quindi la malattia da un lato che è così pesante, così drammatica, a volte così sconvolgente la vita di una persona e di una famiglia, però può, che fosse il lato diciamo neanche positivo, non voglio dire questo, però può essere, noi possiamo fare uno sforzo e cercare da una situazione tragica a trarre un insegnamento positivo, cioè ricaricarci da un lato e rimotivarci e rifarci apprezzare quelle componenti della vita che altrimenti avevamo trascurato, non ci pensavamo o lo dovevamo per così, per già dato. Dottore, siamo un po' in conclusione di questo dialogo e ancora la ringrazio per averci dato questo tempo. Guardando avanti alla sua vita, alla sua vita professionale, alla sua vita di medico, cosa vede e cosa vorrebbe, cosa si augura? Allora, due cose, una un po' egoistica, mi auguro che, no, ci penso questo, di riuscire a lasciare dei medici, io lavoro con tanti medici giovani perché è una fortuna, perché è anche stimolante, a lasciare dei medici, quando io andrò in pensione, spero di andarci prima o poi, dei medici bravi, dei medici che facciano ricerca da un lato ma che siano molto motivati e che si prendono carico dei loro pazienti, dei loro malati, che curino il malato e non la malattia, ecco. Quindi questo è una cosa davvero che ci guardo e mi sforzo perché questo avvenga. E poi sull'altro versante mi piacerebbe molto che la società civile cominciasse a considerare il malato, cominciasse a considerare come la malattia un evento che può capitarci, può capitarci e di conseguenza di diventare tutti un pochettino più buoni, ma lo dico con molto pragmatismo, non con i desideri impossibili, perché se una persona sa che può comunque avere un problema e quando capita c'è, può capitare a chiunque, e beh magari fa un po' più di cose buone e un po' meno cose cattive. Grazie a tutti.